Musica Lunedì 24 dicembre, buonasera dalla redazione di Clivo News. Il Natale è già nell'aria. Per riscoprire i valori di questa festa abbiamo interpellato il Vescovo della Diocesi di Sameniato, Don Andrea Migliavacca. Sentiamo il suo augurio a tutti i cittadini. Siamo a Natale e è bello poterci incontrare, vedere per scambiare gli auguri. Anche tra famiglie, tra amici, nelle nostre comunità è bello poter portare l'augurio che il Natale custodisce. Allora anche io oggi, ringraziando la bellezza della comunicazione, vorrei far giungere a tutti voi il mio augurio di Buon Natale. Penso ai tanti che mi ascoltano, penso anzitutto ai malati, a chi è sofferente nella propria casa o magari in un ospedale. Penso a chi è solo, a chi è in difficoltà e a questi amici vorrei dire Buon Natale. Penso anche a tante famiglie che vivono talvolta la fatica del vivere ma la bellezza anche dell'educazione. E allora a tutte le famiglie il mio augurio. E poi il mio pensiero va anche ai giovani, sono amici, sono presenze di valore, ricchezza della nostra comunità e a tutti i giovani che sono speranza per il nostro cammino l'augurio bello di Natale. Penso poi ai sacerdoti, penso a coloro che vivono forme diverse di servizio nella comunità, penso ai tanti che ci ascoltano. A tutti voi giunga l'augurio di Buon Natale. E che cosa contiene la bellezza e l'augurio del Natale? Ma vorrei anzitutto fare un augurio di buona umanità e di pace. Il Signore Gesù ci presenta la bella umanità del progetto di Dio. Allora è la bella umanità di chi sa vedere nell'altro fratello, di chi sa accogliere, di chi sa rispettare. E è l'augurio che questo Natale ci regali la bella umanità di Gesù. Poi l'augurio della gioia, perché guardando al futuro tanti non vedono la luce ma vedono il buio e la preoccupazione. Ecco, la gioia sia dono di questo Natale che aiuta a sperare per il nostro cammino. E infine vorrei che fosse un augurio di fede, che il Natale di quest'anno, incontrando Gesù, andando anche noi nella fede a Betremme, renda più bella, più ricca, più autentica la nostra fede, la nostra amicizia con il Signore e l'accoglienza di Lui. Ecco, augurio di buona umanità e di accoglienza, augurio di gioia, augurio di fede, buon Natale a tutti voi. In vista delle primarie del PD arriva dall'Empolese Valdelsa l'appoggio a Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria nazionale. La campagna a sostegno del Presidente del Lazio è iniziata mercoledì scorso al Circolo di Corte Nuova a Empoli, con l'inaugurazione del Comitato Piazza Grande a Empolese Valdelsa. Erano presenti, tra gli altri, Valerio Fabiani, candidato alla segreteria regionale alle ultime primarie, il Sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, molti assessori e consiglieri di tutti i comuni dell'Unione, segretari di circolo, rappresentanti dell'AMPI e di altre associazioni. Dalla rotatoria di San Pierino, prima del Ponte Nuovo sull'Arno, fino a quello della Palagina, oltre il canale Usciana, sono nove le rotatorie lungo la circonvallazione di Fucecchio, che il Comune ha completamente ripulito. Oltre alla sfalciatura dell'erba, sono stati rimossi tutti i rifiuti, che ancora troppo spesso gli automobilisti in transito hanno la brutta abitudine di gettare dai frinestrini delle proprie vetture. Sono moltissimi i presepi che in questo periodo stanno prendendo forma sul nostro territorio. Il prossimo 26 dicembre si terrà anche la rappresentazione della decima edizione del presepe vivente di San Mignato Basso. Vediamo. Un presepe che catapulterà i visitatori in un villaggio della Palestina del I secolo d.C., con figuranti, cori, sarte, carpentieri, pittori, ma anche pastori e schiavi. Non mancherà la possibilità di gustare prodotti tipici dell'epoca, musiche a tema e animali come pecore e galline. Tutto insomma come sarebbe apparso ad un visitatore della Betlemme, che ha dato i Natali a Gesù oltre 2.000 anni fa. A San Mignato Basso fervono i preparativi per il presepe vivente, che sarà inaugurato il 26 dicembre alle 16 nella piazza di fronte alla Chiesa Nuova. Un appuntamento divenuto ormai una tradizione per la frazione, nato quasi in sordina a opera di un gruppo di volontari, che ha raccolto tanto seguito e tanto entusiasmo, coinvolgendo sempre più persone e attività che mettono a disposizione il proprio lavoro o i propri materiali. Oggi siamo giunti alla decima edizione, un evento che vedrà una seconda fase il prossimo 6 gennaio, con l'arrivo dei Remmagi e che i visitatori potranno apprezzare, anche grazie al tanto lavoro che c'è dietro, a partire dalla sicurezza che anche in una rappresentazione come questa richiede tanto impegno e coordinamento. Fino agli anni precedenti era sempre stato redatto il piano d'emergenza, con le relative planimetrie che venivano appese nei vari punti dell'area della rappresentazione. Quest'anno abbiamo integrato con un Deflian, che all'interno del volantino c'è il piano d'emergenza, e al punto del censimento, cioè subito all'ingresso della rappresentazione, a ogni visitatore verrà consegnato questo volantino con all'interno la planimetrie del piano d'emergenza e numeri utili. Gli addetti invece alla sicurezza, sia safety che security, sono tutti collegati con un unico apparecchio radio, quindi solita frequenza, e quindi tutti si comunicano e tutti sanno di tutto quello che avviene in ogni istante, in ogni momento. Anche a Empoli proseguono le celebrazioni per il Natale 2018, con installazioni artistiche e attrazioni per tutte le età. Questo pomeriggio da Piazza della Vittoria si è tenuta una lunga diretta pomeridiana sul Radio Ledi, l'appuntamento, con le moltissime attrazioni natalizie che Empoli offre, si ripeterà nei prossimi giorni fino al 6 gennaio. Un nutrito programma di appuntamenti allieterà anche il Natale di Castelfiorentino, la pista di pattinaggio allestita in Piazza Gramsci rimarrà aperta dalle 10 fino a l'una di notte, sia domani che nel giorno di Santo Stefano. Nel Borgo Alto invece c'è la magica via dei Presepi, con tante natività artistiche realizzate dall'Associazione all'Ombra di Membrino, la quale ricorda che grazie alle offerte dei visitatori sarà possibile acquistare un defibrillatore. Siamo allo sport, seconda sconfitta consecutiva per l'Empoli. Gli azzurri e il Castellani hanno subito quattro gol dalla Sampdoria finendo sconfitti per 4-2. Un risultato forse troppo severo nel complesso, ma che evidenzia le molte lacune che ancora il reparto arretrato dell'Empoli soffre. Sentiamo le parole di mister Beppe Iachini nel post-partita. Non diamo colpe specifiche a un singolo, magari a volte capita di sbagliare nel calcio, di commettere qualche errore. Purtroppo la Serie A è un campionato dove se sbagli qualcosa in là ti castigano, ti ci vengono a giocare. Io posso giudicare quello che è stata la partita, la squadra è partita forte come avevamo preparato. All'inizio abbiamo messo in difficoltà anche la Sampdoria, con verticalizzazioni veloci, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo avuto anche qualche chance per poter sfruttare meglio qualche situazione e poter andare a fare il secondo gol. Non ci siamo riusciti, nello stesso tempo non abbiamo concesso nulla. Detto questo però arrivavamo in qualche circostanza in ritardo sul palleggio loro, sulla chiusura di Echdal e lì davanti dovevamo essere ancora più bravi e intensi nell'andare a chiudere con più forza. Poi nel secondo tempo siamo ripartiti, stavo facendo il cambio sull'1-1 dove c'è stata questa situazione qua del secondo gol per cambiare qualcosina proprio perché mi ero preparato una seconda partita e avevamo preparato anche una possibile seconda partita per andare a forzare perché vedevo che era il momento per poter andare a provare a vincere. Purtroppo in quel momento lì abbiamo preso gol, c'è stato il 2-1, detto questo mi è piaciuta la prova di Rasmussen che ha fatto una buona gara di personalità, un ragazzo molto giovane, peccato per quell'episodio singolo che gli è successo ma nel complesso aveva fatto una buona gara e questo non ci deve condizionare per quello che è il lavoro che stiamo portando avanti anche su questo giovane perché ha fatto una buona gara poi è chiaro nell'episodio ci sta che uno possa commetterti un errore però siamo rimasti in partita, abbiamo giocato, abbiamo fatto il 2-2, abbiamo avuto la palla per fare noi il 3-2 con Veseli che è dentro l'area di rigore, ha avuto la chance per poter andare a fare il 3-2 e purtroppo poi dopo abbiamo preso, nel momento in cui stavamo forzando, abbiamo forzato ancora le situazioni con l'ingresso di Lucian per cercare perché vedevamo che la partita poteva essere anche la nostra portata per andare a passare in vantaggio, abbiamo preso questo gol, il terzo gol e ovviamente è stata una mazzata non abbiamo mollato lo stesso, si è creato la situazione per fare il 3-pari con Ciccio che ha messo questa palla dentro dove la Gumi è arrivata con un attimo di ritardo, c'è stata un'altra palla ancora dove potevamo sfruttare meglio l'ultimo passaggio però ci abbiamo creduto fino in fondo, poi secondo me il fatto di aver preso il quarto gol ancora da palla laterale è un peccato perché ti fa vedere la partita in una maniera diversa da come magari negli episodi oggi non siamo riusciti a sportarli dalla nostra parte Va in onda questa sera a partire dalle 21.30 su Clivo, canale 680 la settima puntata di Fuoricampo, la trasmissione sull'Empoli FC e non solo ospiti di Alessandro Lippi saranno questa sera due giornalisti, Emilio Chiorazzo e Carlo Paci la trasmissione sarà riproposta nei prossimi giorni in multiprogrammazione Siamo alle notizie sul tempo, sentiamo le previsioni per la settimana a cura del meteorologo Gordon Baldacci Abbiamo ormai alle nostre spalle il transito di una veloce saccatura dal nord verso sud che attiverà nelle prossime ore fresche correnti nord-orientali in coda a una massa d'aria più fredda e asciutta proveniente dai Balcani Da domani pressione in aumento sulla Toscana e successivo nuovo calo dei geopotenziali in quota a partire dalla sera di mercoledì Queste le previsioni e la tendenza per la settimana nell'Empolese Val d'Elsa Iniziamo con domani, martedì 25 dicembre Sarà un Natale dominato dal sole accompagnato da locali raffiche di grecale in un contesto termico che subirà un temporaneo ma sensibile calo Minime tra i 3 e i 4 gradi, massime tra i 13 e i 14 gradi Mercoledì 26 dicembre cielo sereno al più poco nuvoloso venti deboli di provenienza meridionale minime in ulteriore calo con locali gelate in pianura e valori tra gli 0 e i meno 2 gradi massime stazionarie comprese fra i 12 e i 13 gradi Giovedì 27 dicembre nuovo cambio circolatorio con cielo nuvoloso per nubi basse e locali pioviggini più probabili nelle zone interne venti deboli da sud-ovest Temperature minime in rialzo ovunque sopra lo 0 e fra i 2 e i 3 gradi massime senza variazioni di rilievo La tendenza per venerdì 29 dicembre conferma un cielo nuvoloso con locali deboli pioviggini in un contesto termico che vedrà le minime portarsi fra i 5 e i 6 gradi massime ancora stabili fra i 12 e i 13 gradi Nel salutarvi auguro a tutti voi un sereno Natale e vi do appuntamento all'edizione di venerdì prossimo per il prossimo aggiornamento sulle previsioni del tempo In chiusura di telegiornale anche noi di Clivo vogliamo rivolgervi i nostri migliori auguri di Buon Natale ringraziandovi per averci seguito in questi primi due mesi di attività Clivo News tornerà regolarmente giovedì 27 dicembre alle 19.40 vi lasciamo adesso con questa clip realizzata dai nostri tecnici e dalla nostra redazione ancora auguri per un sereno Natale Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.